L'Ufficio Signor giudice, siamo certi che Licio Gelli non è all'ufficio e nemmeno nella villa. Qualcuno ha saputo della vostra presenza ad Arezzo? Lo escludo, abbiamo dormito in località segreta. Allora procedete. Al, non può entrare nessuno. Questa è meglio farla passare. Il capitano lo sa? No, ma è la segretaria di Gelli. Ma che cosa fate? Ma questi sono materiali diplomatici. Sono documenti segreti. Gelli è consigliere economico dell'ambasciata argentina. Ma per favore, signora. Non potete toccarli. Sono ortolani. Se superate delle altre fra... Un istante. E' inaudito. Sì, 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 insisto. Devo parlare immediatamente col generale. È urgente. Sì, di comunisti. È urgentissimo. Ma noi li bloccheremo. È di vitale importanza. Lo trovi. Ha capito. Due, tre, ecco. Sì, finalmente. Sì, Gelli è qui. Un attimo glielo passo. Generale, mi stia bene a sentire. Sì, grazie.